ciao ragazze e ciao ragazzi bentornati sul canale oggi vi faccio svuota la spesa aushan sono appena tornata vi faccio vedere le due cosine che ho preso ho speso intorno 70 euro se non mi sbaglio vi metto tutto scritto qui sia i prezzi che anche il totale e vi faccio vedere subito queste cose che ha voluto mio figlio che non so che cosa sono tipo slime cosa del genere e poi ha voluto un altro giochino che vi metto la foto qua perché ce l'ha lui che sta giocando poi vi faccio vedere io ho preso questa canotta così maniche proprio a canotta e pagata 2 euro e 99 e li ho abbinato questi pantaloncini che però li vendevano a due quindi praticamente due li ho pagati 3 ore e 99 io ho fatto questo completino anche per stare a casa e poi gli ho preso due pigiamini a questo 5 99 così a pantaloncini tutto intero e poi questo della disney che mi è piaciuto un sacco 9 euro e 90 sì 9 euro e 99 sempre a pantaloncino adesso andiamo per le cose da mangiare allora ragazzi ho preso 6 birre della e poi questo salmone qui che non dovrebbe essere affumicato purtroppo di questa marca vendono anche quello apposta per fare il sushi per fare i migiri l'ho comprato la volta scorsa però purtroppo non c'era era finito niente quindi ho preso questo poi ho preso due di gorgonziola uno dolce uno piccante e poi il pane e poi ho preso i lamponi e le more un condiviso il programma di fare il riso in questi giorni poi ho voluto prendere queste qui che sono delle pastiglie per pulire bene le pentole di più le volevo provare per il sotto delle tendole proprio per quello che è a contatto con il fuoco che si sta un po' rovinando quindi vediamo poi ho preso un pezzo di ricotta salata un pezzo enorme di tirana padano che era in offerta questo è venuto 7 euro e poi ho preso due sai che buono di questi qui con il pollo e salsa orientale e uno di questo qui con il pollo e salsa di soia invece come merendine per il mio figlio ho preso i polaretti questo yogurt della muller di spiderman e poi ho preso i kinderpingui e come merendine anche per uscire ho preso questo qui abc con il cream cake e il succo di frutta e poi ho preso questi qui della citterio che sono questo prosciutto cotto formaggio e crostini invece questo è succo alla mela salame e aggrissini molto molto carini e non costano neanche tanto niente ragazzi questa era la mia spesa all'Ocean io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao